ci siamo, ok aspetta sei già tutta rossa oddio, sto morendo salutate le tigre ecco il totale ma non sei e Valeria e Maria dice fanno una pippa ciao dolcezze eccoci qui con il video tag challenge, make up qualcosa e abbiamo pensato di farlo insieme in tantissime ci avete chiesto un video tag insieme ed eccoci qui donna Maria sul mio canale noi abbiamo pensato di farlo in me perché era più carino che io truccassi lei e lei truccasse me quindi sul suo canale troverete il video in cui lei mi trucca guardate di farlo no veramente notate seria fantastico make up fai vedere bene le labbra che sono la casa mia guardate bellissimo nulla vi dico se volete fare anche voi questo video tag potete truccarvi anche da sole senza guardare eccetera eccetera però è più divertente farlo in due cioè e mettete video di risposta o qui sotto al mio video o sotto al suo è uguale e non vediamo l'ora di vedere i vostri video cioè è troppo bello guarda provateci perché è troppo bello come tag adesso vi lasciamo a questa stupenda creazione ciao ciao allora bb3 allora dammi a me ok facciamo anche le mua le mua scusa mare se ti spreco la roba vai no ma che scusa sembra facile ma non lo è oddio qua ci sono i capelli ci hanno attaccato una corta ci dico infatti che ho gli artigli capito non mi vuole mai i capelli così torno di classe adesso la base giusto degli occhi ok intanto faccio vedere oddio primer potion no non so come mi ricordo me questa qua primer potion di Urban Decay occhi chiusi ho speso le sopracciglia io non ce la farò mai aspetta aspetta molliccia oddio guarda che sono le tempie allora adesso il pennello come paretto ho scelto qual è che ho scelto intensissimi intensissimi un bel po' di colore ecco che vuoi sempre i colori no 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 faccio il casaccio ah proprio il casaccio sì no quella è la tavola no ancora ok cazzo sembrava dedicata hai vista si posa le sopracciglia cos'è eh le coperchie ah scusa ok va bene oddio che ridere aspetta vediamo è che non riesco a far seria sto piangendo dal ridere non durerà nulla eh eh cacchio ci devi uscire stasera questo giro tanto è halloween buon halloween buon halloween happy halloween perché ridi ti frega l'hai messo sulle tempie ci sono le tempie scusa mi devi mettere la battita no la mascara eh eh cos'è ti frega dopo guardi allora cosa vuoi mettere mettiamo magari un po' di matita no stai pazzo dai un po' di matita nella palpebra mobile matita che color vuoi matita se ce l'hai blu è la glamorous eye pencil di Kiko la numero 407 chiudi l'occhio eh si si ti dico chiuso allora prima il mascara te lo do io perché questo è quello double è quello di maybelline intense XXL ah così ok vai bucicati le dita e chi ce l'ho corte basta prego da far danni va no no non ti preoccupare allora adesso il blush che è sempre quello appunto del video broken doll yeah oh questo qui della slick che è la ruba 890 sta sorridendo e lì non è un fondatente lavo un po' più su no così stai impingendo lo specchiato ok ok rossetto siamo già al rossetto rossetto rosso questo è il numero 84 di Kiko perfetto però cavolo non è facile è moscio no non è moscio cerca di seguire le tue labbra oh sembra facile ma non lo è no no li stai mettendo bene e beh vedi che un po' di tatto ce l'ho le sopracciglia le vuoi un po' particolari sì con la matita va bene la liquidizia con la nera le pastello di neve make up ok già aperta già tutto bella da sicula proprio beh perfetto vuoi vedere allora questo è il mio make up ho voluto il colore casaccio cioè specifico ho voluto fare un po' casaccio così almeno così per gioco dai esatto vuoi togliertela dai 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 oddio ho sempre con una calazza però te ci ho zeccato cosa ci ho zeccato ho fatto così oddio beh non sono stata no guarda il blush qui l'hai messo quasi benissimo questo è il mio make up spero vi sia piaciuto che voto mi date non scherzo no no comunque quando guardavo i video di questo tag ho detto no donno sembrava facile e invece poi con questa roba non puoi nemmeno sbirciare adesso tocca a me adesso se volete vedere come mi ha conciato lei vi lascio il link sotto nell'info box e così vedete come ti ha truccato che bella che sei sei bellissima hai un non so che di di more orfea di more orfea anche io ho fatto il neo qua mi sembra alla marylin la brano della marylin io ho la marylin io qua su neanche qua io mi sono divertita tantissimo comunque anch'io ci sono divertite e ho fatto questo capolavoro alla giotto e nulla vi lasciamo il suo video cioè il nostro sempre vabbè e un bacione e al prossimo video ciao ciao questo pezzo sai che lo metto no 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 ti prego lo metto